Ancora 736 chilometri da percorrere in Pullman, fra andata e ritorno, i mastini dell'Hockey Varese potranno chiudere il difficile ciclo di trasferte, tre in dieci giorni, proposto dal calendario d'Italian Hockey League, la Serie B nazionale. Alle 18.30 di domani, sabato 16 gennaio, la squadra allenata dal franco-canadese Claude De Vesse affronterà i Falcons di Bressanone, che all'andata avevano battuto 7-3 i gialloneri. Una sconfitta che fece molto male, anche perché quella di domenica 4 ottobre era stata la gara d'esordio del campionato. Ma da allora tanta acqua è passata sotto i ponti e dopo la sosta di novembre, causata dal Covid, i mastini hanno ripreso a giocare con grande intensità, vincendo le partite con Pergine, Appiano, Merano e Alleghe e perdendo solo in casa del Val di Fiemme. Varese si è rilanciata anche in classifica e non ha paura di affrontare il Bressanone, nonostante il passo falso dell'andata e i tre punti in più. L'attaccante Michael Mazzacane suona la carica. Siamo partiti un po' a rilento perché non avevamo tanto ghiaccio nelle gambe, quindi abbiamo fatto un po' più fatica e i risultati delle prime partite lo dimostrano. Poi pian piano la situazione si è normalizzata e adesso che riusciamo ad allenarci un po' più con costanza, i risultati vanno un po' più a nostro favore. Non ci poniamo dei limiti, sappiamo le nostre potenzialità e ce la giochiamo con tutti e vedremo cosa succede.